Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic Anvedio E benvenuti in un nuovo video leak Video leakissimo ragazzi Noi abbiamo finito di fare il video di ieri Dove dicevamo appunto Che le performance non sono l'unica cosa da guardare Delle 9.5 mila Ma andrà guardato le tech nuove uscite Che bam Copite droppa I leak delle specs A quanto sembra finali Delle SKU di 5090 e 5080 Si vede che ce l'aveva lì da un po' Ha visto che siamo usciti col video Ah cazzo mi ero dimenticato Butta le vuole Ma prima di cominciare con questi leak Ricordatevi che l'8 e il 9 di ottobre Ci sarà la festa delle offerte di autunno Prime No la festa delle offerte Prime di Amazon Di ottobre Dove ci saranno un sacco di offerte Sia lato appunto tech Che potete seguire su Prodigico Offerte Che lato tutto il resto che potete seguire su Prezzone Quindi come al solito Qua sotto in descrizione trovate tutti i link Tricon tutti i nostri link Sia telegram, whatsapp, sito eccetera eccetera Andate a recuperarli a seconda di quello che vi interesserà E non perdetevi appunto questa due giorni di offerte Quindi visto che sui leak di Copite Non facevamo niente da diverso tempo Perché era fermo da diverso tempo Copite che lo sapete benissimo È uno se non probabilmente Il leaker più affidabile Per quanto riguarda NVIDIA e tanto altro In generale Non c'è parmone È il leaker Gli altri Morlois Dead Così che ne azzeccano una su dieci Su NVIDIA A parte il discorso dei consumi Dei vattaggi che faremo dopo Che sembra essere ovviamente sempre più concretamente Collocata a fine anno Ed ha droppato altri leak E che appunto visto che manca comunque poco Perché alla fine siamo tre mesi Giù di lì Poco più di tre mesi Da quello che dovrebbe essere L'uscita, la presentazione di queste nuove schede E hanno una dimensione molto diversa Gli altri Molto più finali Partiamo dalla 5090 ragazzi Perché questi leak sono molto così Perché la 5090 Ieri dicevamo no Ma non sarà come la 4090 No infatti Ci sarà una plift mostruosa Se questa rischia di essere peggio Perché non è un mostro È il dio delle schede video Una roba del genere Se esce ragazzi Ma tanto che ci viene da chiederci Che cacchi stanno facendo Perché se è veramente così Si parla di quasi 22.000 CUDA Core Quindi quasi 6.000 in più dell'attuale 90 Che sapete benissimo Scalano in maniera molto meno lineare All'andare e al crescere del numero Però so 6.000 in più comunque Ma non solo Il punto non è Al di là di CUDA Che sono aumentati in maniera considerevole Il punto è tutto il discorso memoria Stiamo parlando di innanzitutto G7 Si parla dei 28 gigabit per secondo O non i 32 Ma comunque di un bus di 512 bit Parliamo di una GPU Con quasi 1800 gigabyte per secondo di bandwidth Cioè una roba Stiamo parlando di O il 70% in più della 4090 Eh sì, infatti Cioè una roba mostruosa Una roba mostruosa Ovviamente 32 giga G7 Perché? Perché no? Perché non metterci dentro 32 giga Una scheda che già avevamo Bella corposa di memoria Quindi sembra Non solo un aumento classico E piccolino per quanto riguarda i CUDA Semplicemente Quindi i core Grafici Ma proprio tutto un aumento esagerato Non sappiamo ancora niente Per quanto riguarda Leak di frequenze Quindi quello sarà anche lì Un'incognita che cambierà molto Sì esatto Anche lì come si comporteranno Più che questa Quelle più sotto Però sarà da verificare E niente reti core e tensor core E niente Esatto Potrebbe essere tranquillamente Che l'aumento sugli reti core Si è ancora Ancora più Più grosso Ne ovviamente niente Per quanto riguarda le tecnologie Però lo sappiamo benissimo Come funziona con le tecnologie Si sanno sempre più sottodata Si sa la settimana prima Quando fanno le call Con gli azionisti Esatto Il classico cinese Come abbiamo visto chiaramente A Verlino Che fa le foto Quando non dovrebbe fare Lo leak a videocarts Matematico Siamo usciti dalla conferenza A Berlino Di Lunar Lake Ragazzi Videocarts a giorno Ma era fuori l'articolo Cioè una roba allucinante E per ultimo Ma non per importanza Perché c'è da farci un discorso Appunto Questo benedetto vattaggio Questi consumi Che i leak Riconfermano Ancora una volta Essere aumentati A 600 watt Nonostante Copaita Anche nei commenti Su X Dica che Loro sono riusciti A tenere un dissipatore Dual slot Quindi c'è chi si fa il dubbio Che sia raffreddata Addirittura liquido Sta scheda Non si capisce bene Però Sui vattaggi C'è da fare Un discorsetto Nella scorsa generazione Anche noi abbiamo seguito Quelli che erano i leak Appunto Sia di Copaita Che di altri Sui vattaggi Che rivelatosi poi Totalmente sbagliati Perché la serie 4000 È una Se non la più efficiente Che ho memoria Anche a livello di notebook È veramente Estraefficiente E in questo caso Si già parla Di appunto Consumi elevati Doppio connettore Da 600 watt Quindi doppio 12V HP VR Francamente Io non credo a queste cose Tutto il mondo Sta andando verso Un efficientamento migliore La 60i Guardate cosa sta facendo adesso E farà con Arrow Lake La vedo dura Che in video Va a impelagarsi Molto strano In questi discorsi In architetture Che poi vanno su laptop E tutto Ha questi vattaggi Qua La vedo veramente dura Per cui Ci limitiamo a riportarveli È stato detto Ma enormi dubbi Sulla veridicità Di questi leak Anche perché Appunto Come già detto E ripetuto più volte Ada è un'architettura Che ci ha stupito Da quel punto di vista La 60i è una lampadina Quindi fare un passo indietro Di questo tipo Sulla pro Sulla futura architettura Ci sembra veramente strano Per un'azienda Così sul pezzo Come Nvidia Su questo ambito qui Quindi capite bene Che Già solo da questi Tre rumor Tre specifiche Liccate Tre quattro specifiche Liccate Che danno un po' Il complesso Di come sarà la scheda Anche se manca ancora Qualcosa da capire Cosa ci possiamo aspettare Dalla 90 C'è una roba Che buca i muri Prezzo l'ho? Io Va bene se a 2000 euro Va già bene se a 2000 euro Il prezzo di questo Sarà impressionante No fuori di testa sarà Contiamo che fare Tanto di più Una scheda che ha fatto Il 70% in più Fotonico Eh sì Perché sarebbe Praticamente Dalle 2000 Ci sarebbe un 45% Con le 3000 70% Con le 4000 Qui aggiungi Cos'è Tutto sto ben di dio Infatti Vorrebbe dire che le top di gamma Veramente qua fanno Un enorme Guadagno prestazionale E il costo sarà Elevatissimo A cui c'è da aggiungere Anche il DLSS 4 Che parlavamo ieri Comunque è tutt'altro Che poco importante Anzi è Pari se non superiore Alle novità hardware Sì Sbilancerà tutto Ovviamente Come al solito Sempre di più In favore di invidia Lato tecnologico Quindi quello sarà Sicuramente uno dei punti Più interessanti Però capite bene Che una scheda del genere Così tanto più potente Così tanto costosa Ha l'interesse che ha Perché il problema grosso È quell'altra Sì la MER È la 5880 E ovviamente Si fa per dire Perché sarà tutto Treme che scarsa Una scheda del genere No certo Però è ovvio Che le specifiche liccate Rispetto a quelle che sono Rispetto alla 5090 Sono fortemente Deludenti Ridimensionate Parliamo di una conta di cuda Letteralmente dimezzata 10.007 Cosa Che io non ho memoria Di una roba No vabbè sì Comunque Sì è qualcosa Però da un modello Con l'altro Boh Cioè E poi Stiamo parlando di Neanche mille cuda in più Rispetto al modello 80 Che già conosciamo Neanche mille Con una 90 del genere Capite bene Che già di base Qui partiamo con lo Sbilanciamento Violentissimo Non sappiamo Le frequenze Come detto Le memorie saranno Sempre G7 256 bit di bass 16 giga 16 giga Su un 80 Uguale alla vecchia 80 Per il 4K Esatto Scheda del 2025 Francamente ci saremmo aspettati Almeno minimo 20 Almeno minimo 20 Dopo tutto il cinema Fatto con la 8012 L'annullamento Dell'8012 Che poi è diventata La 70 Ti I problemi E le critiche Fatte sulla VRAM Un 80 Ancora Con 16 giga Anche se Potrebbe anche essere Che questo apri le porte Veramente al DLSS4 Con la compressione Delle texture Ma rimane che Tu stai pagando Un 80 Questa non ve la regalano Di certo Costerà sopra i 1000 euro E tu ci metti La RAM giusta Per quel prezzo lì E quello che dicevamo Nel video di ieri Bisogna valutare Ok le tech vanno bene Ma mi devi offrire L'hardware giusto Per quella fascia Non mi puoi lanciare Prodotti di merda Esatto Non mi puoi dare 16 giga di VRAM Nel 2025 Sinceramente Anche con le tech Perché comunque Lo sappiamo benissimo Le tech hanno un tempo Di rodaggio Non è che escono subito Su tutti i giochi Quindi comunque Anche se esce DLSS4 Della compressione De texture Rivoluzionario Allucinante La cosa più figa Mai vista sulla faccia da terra Tutto da verificare Esatto Tutto da verificare Comunque ci metterà mesi Diversi mesi Ad essere implementato Ad entrare a regime Poi chissà che cosa sarà Anche a livello di limitazioni Quindi capite bene Che devi partire Da un buon prodotto Non puoi Puntare tutto su quello E sperare Che tutto il mercato Ti segua E ti giustifichi Prodotti Mediocri O con grandi lacune E qui parliamo Di grandi lacune Perché è una 80 Che è distantissima Dalla 90 Questa è una scheda Per il 4K Grossa del 2025 È una scheda Che potenzialmente Pareggia Alla 90 attuale Ma non sapendo Le frequenze Ovviamente Fino al 10% in più Potrebbe essere Però dovrebbe andare Come una 90 E anche lì A noi sembra Una classe 70 Più che una classe 80 Perché la classe 70 Dovrebbe andare Come la top di gamma Della serie prima Per uno potrebbe dire Giustamente Regà La 90 Non è la serie prima Cioè È stata la prima A mettere questo Tier ulteriore Perché non si è mai visto Un salto generazionale Come quello dell'anno scorso Ok Infatti ricorda Molto il lancio Delle 2000 Questa cosa qua Dove La 2080 Andava come la 1080 Ti Ed era un salto Deludente Proprio perché Però con le 2000 Si introduceva Tutto un nuovo concetto Di tecnologie Architettura Nuovi core Implementati Quindi era Non dico giustificato Perché lo dico adesso A posteriori E grazie al cazzo Sì ai tempi Si sono incazzati Tutti E qui probabilmente Non ci sarà Quella cosa lì Perché parliamo ovviamente Di un'innovazione Di un Anche evoluzione Delle architetture attuali Ma non lo stravolgimento Che c'è stato Quella è una rivoluzione Allucinante Anzi la più grande Che è accaduta Nel mondo del gaming Hardware Da non so quanto tempo Questa sicuramente Ci sarà una tech Molto importante Sì sicuro Sicuro Ma che non può pareggiare L'introduzione Degli RT core E tensor core Nelle GPU Quello è stato proprio un momento Da avanti Cristo E dopo Cristo No è cambiato tutto È cambiato comunque Lo spazio che devi dedicare Ai core Devi modificare tutta la GPU Quindi era proprio Uno stravolgimento totale Però questo ha settato Questa generazione In particolare Che stiamo vivendo Proprio perché Stiamo vedendo questi lì Che ha settato Un bruttissimo standard nuovo Perché col fatto che La 90 Nella scorsa gen La 40-90 Ha fatto un uplift Così grosso E che adesso Stanno mantenendo Questa distanza Tra il modello 80 e 90 Lo rende ancora Un po' più Critico Perché vuol dire Che se la 80 è così E loro non hanno concorrenza In fascia alta Quindi Tendenzialmente Possono fare un po' Quello che vogliono Le schede sotto Come saranno? La 70 La 70 Ti La 60 Come le faranno Se fanno una 80 così? Perché fai la 70 Ti La 50-70 Ti Come la 40-80 E la 50 Il 70 Come la fai? La fai come la 40-70 Ti Super Capite bene Che andando in giù Questa line up Ha vibes Di 40-60 Ti In maniera Molto Molto forte E quindi Ovvio che I blastaggi Nelle review Sono proprio Già proprio Li pregustono Eh sì No il rischio È che veramente Ci esaltiamo Tanto per una 90 Stratosferica Che poi non frega niente A nessuno Se non ha quei 2-3 che hanno 2000 euro da spendere Per prenderla E tutto il resto Della gen Rischia di essere Veramente Pericolosamente negativa Dopo una gen Che è stata molto Controversa E Una gen ancora precedente Che ha vissuto Il periodo più brutto Della storia Che stiamo vivendo Avere un'altra generazione Complicata Sarebbe veramente brutto Anche lì Ragazzi È difficile capire Come si andrà a evolvere Perché i messaggi Sono contrastanti Ci sono AMD Intel Che probabilmente Faranno un buon lavoro In fascia media E quindi Invidia come si comporterà Cioè veramente Abbiamo il dubbio Di come sarà Questa fascia media Che poi alla fine Raga È quello che importa Di più di tutti Quella fascia lì Cioè Come verrà Fatta Come verrà Alimentata Quella fascia lì Secondo noi È veramente La cosa più importante O veramente Hanno in serbo A livello tecnologico Qualcosa Di altrettanto Epocale E potrebbe anche essere Però veramente Le sensazioni A livello di riproporzionamento Sono le stesse Se non peggiori Dell'RTX 4000 Quindi Se questo è così Non che questa 5080 Vada male Perché No però Andrà come una 4090 O un filino di più Speriamo Speriamo Però parliamo Comunque Di un prodotto Che è una classe 80 Che continua A avere dei compromessi In 4K Poi Perché 16GB E tutto Sono cose un po' Non bellissime Da vedere Per una scheda Comunque ripetiamo Siamo sopra i 1000€ Ma Sicuro Stanno sempre più Abbattendo un'icona Perché l'80 bene o male È sempre stata un'icona Anche in passato La scheda Quella che rappresentava Un po' L'ideale del giocatore Che switcha La fascia alta La fascia enthusiast Qui sta diventando Veramente complicata Molto compromesso Costo elevatissimo Delle specifiche Veramente controverse Perché la VRAM Ha fatto parlare tanto Anche la scorsa generazione Nonostante tutto E l'unica speranza Che ho io È che nella fascia Quella che importa La maggior parte Delle persone Proprio per il fatto Che gli altri due Ci si concentreranno Molto di più Anche Nvidia Non faccia gli stessi errori Di questa gen Cioè questa è la gen Di GTA 6 Su PC Esatto Cioè questa è la gen Che uscirà verosimilmente Nel 26-27 Quindi fra due anni Comunque È la gen Che principalmente Prenderà quei giochi lì E prenderà I giochi Grossi Fable di fine anno Che sembra tecnicamente Una figata Cioè tanti titoli Corposi tecnicamente Già adesso abbiamo visto Comunque alcuni titoli Che in 4K Comunque abbondano Sopra i 10 giga Per cui comunque È un qualcosa che Per una scheda Ripeto Sopra i 1000 euro Aspettarsi almeno E 20 giga Era secondo me Qualcosa di Anche perché poi Comunque schede Che avranno 6-7-800 euro Comunque avranno I 12 magari Eh sì infatti Cioè quindi La cosa è ancora più Problematica E ripetiamo Anche se Comunque verrà messa Con la storia Della VRAM Perché comunque Ci vorrà del tempo Per farla Per farla implementare E poi deve essere semplice Deve diffondersi in fretta Cioè nel senso L'abbiamo detto anche La generazione scorsa Con il discorso Del frame generator Che poi appunto È stato ripreso Anche da AMD Adesso verosimilmente Lo farà anche Intel Eccetera eccetera È stato un po' Un grande cambiamento Anche quello Però quando sono uscite Lo abbiamo detto E ripetuto tante volte Non può essere Il driver di acquisto Perché deve prima Essere diffusa Come tecnologia Qui è fighissima Se lo fanno così Il DLSS 4 Con la compressione Delle texture Abbiamo tempo Per pensarci Però comunque Recensire queste schede Se così saranno Sarà complesso Una sudata Incredibile Perché comunque Al lancio La parte hardware Se così fosse Sulle schede Sul riproporzionamento Sarà deludente L'impatto di quella tech Sarà comunque Molto forte Perché è una tech Verosimilmente Che cambia giorno La notte Se applicata Però Quando verrà applicata E valutarla Prima Sarà veramente Veramente complesso Veramente complesso Ma ragazzi Queste sono supposizioni Sui leak Che sono usciti ieri Comunque Ci siamo Ormai Ci stiamo avvicinando Manca poco Siamo entrati In quella che è Diciamo La rush finale Di Comunque Attesa Per questo nuovo Nuovo hardware Che sta uscendo E arrivano sempre Arriveranno Sempre più leak Di questo tipo Sempre più vicini Alla verità Chiaramente Quindi ve li porteremo Sempre E vogliamo discuterne Con voi Fateci sapere La vostra Nei commenti Qua sotto E alla prossima Ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti